Ciao a tutti, sono Terinati, benvenuti su un altro video, lo so se tu sei in Italia di sicuro da un po' di settimane adesso hai sentito qualcuno parlare di questo ragazzo o hai visto un video di questo ragazzo su social, un natural, un ragazzo natural di colore che ha gareggiato sulle gare natural, poi è stato preso da un youtuber famoso, un ragazzo che conosco pure di Nescalà quindi di là è cresciuto a seguito di questo ragazzo, poi la gente è iniziata a parlare di questo ragazzo ovunque perché Nescalà è abbastanza famoso di mondo di fitness e mi avete mandato, due o tre persone mi hanno mandato settimana scorsa un video di questo ragazzo, mi avete chiesto te di cosa ti pensi di questo ragazzo eccetera sinceramente non volevo parlare di questo argomento, poi ho detto boh, devo parlare, essendo che anche io sono nero e io capisco tante cose anche adesso mostro un video di mio qua, anche una foto mia, come voi ben sapete mi chiamo Teddy, ho messo Nati con mio nome solo perché sono natural gente che mi conosce lo sanno quindi in queste foto qua ho allenato due anni, sì di base ho sempre fatto atleta, ho fatto corsa, poi ho iniziato a giocare calcio ho sempre giocato calcio tutta la mia vita, poi ho smesso, poi ho iniziato a fare palestra, quindi ho fatto corsa fisico in due anni senza tanti impegni sto dicendo tutte queste cose perché per dire questo ragazzo, io personalmente, io che sono nero, sono africano non vedo le cose straordinarie di questo ragazzo qua che non può essere natural lui mi ha detto che lui si allena da 17 anni che si allena, che ne sapete 17 anni di allenamento che il fisico ti dà magari questo ragazzo non beve, è sempre in dieta, segue sua dieta, si allena da 17 anni se sei fortunio, ho sempre allenato come mai questo non puoi avere questo fisico? per me questo è un fisico normale ho visto veramente gente in Africa se si allena dietro casa con i pesi fatto con mattone che si allena, che hanno fisico così, te lo giuro se voi non mi credete inizio a fare video di ragazzi in Africa che hanno questo fisico che non hanno, non sanno neanche cosa vuole dire, io che sono in Italia non ho mai visto con i miei occhi questi ruoli di mia vita quindi anche è colpa di questi non nostra generazione, mia generazione la generazione sopra nostra non so se alcune persone, non so se è invidia o è una cosa per avere clienti soprattutto quelli lì, personal trainer di teologi queste persone state dicendo le cose a queste nuove generazioni che non sono veri perché ognuno che ha due o tre muscoli deve essere dopato o deve prendere qualcosa, non è possibile e dovete sempre avere quello fisico lì, deve fare così non è vero ok una domanda facilissima che faccio per voi qualcuno sui commenti dimmi i muscoli o una cosa generale che è stato sottoscritto che se tu sei natural non puoi essere un tot non puoi essere così così chi ne sape? chi ne sappiamo? ognuno ha il genetico diverso sono gente, io sono fermato di allenare ho non allenato per tre anni, ben tre anni sono gente che ho lasciato in palestra adesso che sono tornato adesso sto provando di andare in mia dieta indietro sto facendo tutto, mi sto allenando di più adesso ho ancora più bello il fisico di loro e loro sono sempre andati in palestra quindi cosa vuoi dire? che se tu vai in palestra e non ti impegni è perché in tua testa e quello lì madonna, per avere quello fisico lì è dopato non cresce mai è una brutta verità, non cresci mai lo so, sono fisiche estreme che magari uno ha due spalle larghe così con dorsale così si capisce che questo qua sta usando qualcosa però questo ragazzo magari sono io non vedo niente di speciale sì qualcosa di speciale perché sono fisico è da... possiamo ammettere che tu devi essere proprio fissato per avere quello fisico lì naturalmente però io essendo che mi sono allenato anche sto allenando e io conosco gente io conosco anche un altro youtuber mio amico caro amico si chiama Tete Mistaccata adesso metto su pagina youtube qua andate a vedere il suo canale quello ragazzo lì posso mettermi mano sul fuoco che quello ragazzo è natural però tante gente lo accusa che dopo altro eccetera perché quello ragazzo è così con il suo allenamento il suo dietro eccetera quindi magari se smettete di andare a fare l'aperitivo bere smettete di guardare cosa fanno gli altri in palestra fate la dieta allena per 17 anni e vedete il fisico anche ci sono purtroppo ci sono tanti ragazzi soprattutto ragazzi neri io posso dirgli perché sono nero che abbiamo un genetico un po' avvazzata in confronto agli altri è la verità io veramente guarda questi questi qua sono io quando facevo la dieta quando mi allenavo adesso anche adesso se questo foto qua che sto mostrando ho fatto due mesi fa questo qua che sto mostrando cosa vuoi io so per dire che questo ragazzo non anche dal nuovo ginocchio non dovete prendere queste cose che tu sono tutti dopati questo non puoi avere questo fisico perché nessuno lo sa la verità nessuno lo sa il limite di nessuno perché tu non hai tu non ha ognuno ha diversi genetiche sono gente che senza allenare hanno già il petrol hanno già bracci bracci grosso solo magari facendo scafellista nei supermercati eccetera quindi non prendi esempio di questo ragazzo questo ragazzo io personalmente credo che è natural è punto basta questa è la mia opinione chi non vuole allenarsi perché pensa che qualcuno è dopato quindi non può arrivare e ci dice le cose brutte sulle persone per dire eh guarda non può essere così così ti senti meglio va bene però questo ragazzo qua veramente è natural è punto basta iniziate a allenarci prima di dire che qualcuno non è natural magari sei tutti brutti 17 anni di tua vita su una disciplina magari tu puoi vedere i risultati è la verità è il punto basta non volevo parlare di questa cosa perché eh mi sembra qua che nella nuova generazione soprattutto non lo so se perché gente parlano troppo di questi doped su internet che tutti adesso non puoi avere un filo di muscoli su tuo braccio o su tuo popaci no 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 non può essere natural non è vero io sto parlando per me perché io lo so che genetico ho se avevo un po' di testa in più per la dieta eccetera lo so lo so dove dove posso arrivare fidati di me anche gente che mi conosce io sono di Torino gente che mi conosce qualcuno in qualsiasi momento vieni da me dicendo fai pipì qua facciamo i test non ho problemi perché io lo so non ho mai visto niente di questi stivoli TRT eccetera con i miei occhi miei amici che ogni tanto faccio live con loro in questo canale e loro che mi spiegano cosa sono questi quindi ragazzi cosa sto dicendo impegnatevi di più in palestra più di criticare se qualcuno è natural non è natural dai ci vediamo il prossimo video sono tennati let's go